ciao lorenzo piacere innanzitutto piacere piacere come stai tutto a posto tutto come stai bene bene grazie tutto bene allora in arte ti chiami zo vivaldi invece l'anagrafe lorenzo caio sarti sei un cantautore produttore polistrumentista oggi parliamo della tua musica per ztl magazine tutti i lettori del nostro magazine online allora si è cresciuto tra milano shanghai los angeles e cervia luoghi diversi tra loro quanto ti hanno influenzato anche nella tua musica se c'è un'influenza beh mi hanno influenzato molto sicuramente la posto che mi ha influenzato di più è stato los angeles perché lì diciamo conosciuto tutta la cultura black che può andare dalla trap hip hop r&b soul che poi ho unito a tutta l'altra formazione di musica rock che ho diciamo fatto in tutte le altre parti perché sia a shanghai che a milano ho sempre ascoltato musica rock e suonato con ragazzi di scuola però diciamo proprio la cultura che influenzasse me e sei avvenuto a rosangeles in effetti si sente anche in questo primo singolo d'esordio perché è uscito il 19 maggio rumors e insomma si sente proprio la parte soprattutto strumentale tu sei un po di strumentista ma è molto forte questa parte spiegaci come ci hai lavorato e se sei partito dalla musica o dalle parole come è stato il processo della canzone allora in questo in questo caso ho collaborato con davide malvi che il ragazzo con cui scrivo tutte queste canzoni italiane e è nato diciamo dalla dalla musica e dal dal suonare assieme noi partiamo magari da un'idea di testo che mettiamo in display su uno schermo e poi ci mettiamo ognuno uno strumento io posso essere la chitarra e lui la batteria piuttosto che lui al piano io la chitarra e poi cominciamo a buttare giù idee quindi proprio suonando strumenti e interagendo con con le idee in tempo reale ecco la canzone ha un ritmo molto allegro però comunque parla anche insomma di qualcosa di profondo ecco diciamo che sdrammatizzi un po parli di rumori da scacciare quali sono quelli che che tu senti provi che vuoi scacciare allora i rumori alla fine che butto fuori dalla testa sono le insicurezze le paure di mettersi in gioco le anche le paure dei giudizi delle persone di 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 essere schiacciato da da queste di quello che la gente possa pensare di quello che stai facendo che non sia abbastanza forte che e quindi i rumori da scacciare sono anche quelli che dico a me stesso perché io sono forse il mio più grande nemico alla fine della giornata quando prima di andare a dormire ripeto brutti pensieri nella mia testa come che non sono abbastanza che non sono bravo e quindi questi sono i rumori diciamo da scappare sono mettersi metterli da parte cercare di silenziarli e di davvero vivere perché e fare le cose perché è dello farle perché non c'è nessuna ragione di non farlo ecco forse adesso mettendoci la faccia immagino che magari la paura un po aumenti perché ovviamente canti tu e ti fai vedere insomma prima hai sempre scritto anche per cantanti importanti come Fedez Dark Polo Gang per esempio e autori anche di amici concorrenti di amici magari li rimanevi un po più nell'ombra era più facile avere meno rumori intorno esatto e diciamo che è stata però una vittoria allo stesso tempo partire con il mio progetto perché per me anche è stato un ce l'ho fatta cioè sono riuscito comunque a scrivo pezzi che ho l'hard disk pieno di canzoni e non sono mai riuscito a mettere fuori niente quindi eh non volevo ho ventiquattro anni non volevo arrivare a fare cinquant'anni e guardarmi dietro e dire ah non c'è neanche provato sapevi cantare sapevi scrivere non c'è neanche provato quindi già solamente aver messo fuori il pezzo per me è stato comunque un riuscire a buttare fuori questi rumori della stessa una vittoria certo ecco e al di là invece del dell'approccio del farsi vedere ovviamente mettere la faccia proprio in una propria canzone proprio nell'approccio invece della scrittura è più facile scrivere per te stesso o per gli altri allora dico che ogni volta che ho scritto per altri ho scritto come se stessi scrivendo per me stesso ed è forse lì che interessa altri artisti quello che stai facendo quanto tu stai comunque dicendo qualcosa di vero e e quindi è è sempre lo stesso parte sempre nello stesso modo anche quando vado a scrivere per altri ripenso sempre ok ma questo io penso che sia bello dirlo penso sia forte come melodia penso ovviamente vai un attimo a cucirla sopra quello che può essere la voce di un'altra persona piuttosto penso che il modo di dire le cose di un'altra persona però il l'approccio e diciamo il fulmine creativo proviene sempre dallo stesso dalla stessa dello stesso punto quindi direi che è ugualmente facile farlo ecco invece amici lo faresti anche tu a tua volta oppure preferisci continuare a farti conoscere tramite spotify youtube in maniera così più indipendente se vogliamo allora direi di sì direi di sì perché comunque credo che anche mi dia molte più libertà creative e molte più libertà nel futuro molte più libertà di scegliere quello che voglio dire come lo voglio dire e quindi questo per me è molto importante per questa ragione non voglio farlo più tanto perché non voglio legarmi legalmente alla fine proprio a altre persone che fanno decisioni per me per questo scrivere per queste persone qua e poi per il mio progetto dobbiamo stare un po' più tranquillo con la mia testa per decidere le cose ultima domanda parlaci un po' della tua collaborazione con Fedez perché comunque insomma un rapper importante oggi conosciuto anche da chi magari non ascoltava le sue canzoni anche lui ha fatto tanta gavetta scrivere per dei brani per il suo album album paranoia airlines insomma penso sia stato una un grande motivo di orgoglio però ecco come è stato proprio collaborare con lui se ci sei stato a stretto contatto cosa pensi anche della sua musica allora collaborare con lui è stato bello perché è stata la prima volta dove davvero andiamo a fare una cosa che sapevo sarebbe stata ascoltata da tante persone e quindi quello ha anche portato un sacco di adrenalina un sacco di giornate di lavoro in interrotto poi io ero a los angeles nel periodo in cui appunto stavo nei mesi stavo lavorando al suo progetto lui non era lì assieme a me però comunque ero quotidianamente a contatto col col suo produttore michele canova che ai tempi mi aveva firmato e con cui appunto ricevevo tutti i vari feedback io diciamo faceva da tramite michele canova tra me tra me e Fedez quindi magari io gli mandavo delle melodie loro mi mandavano delle top line su cui creare una base e devo dire che quei che quei mesi di lavoro sono stati molto molto avvincenti molto avvincenti e interminabili perché appunto io il mio collaboratore Jacopo che tra l'altro anche prodotto ha ultimato rumor in quei giorni lì è stato bello proprio ricevere feedback e quindi sapere cosa andavi a fare nel momento in cui l'avevi fatto perché non funzionava perché funzionava cosa era da cambiare avere questo tipo di feedback credo faccia crescere molto perché capisci anche che poi la musica alla fine non è solo 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 per te perché quando vai a mettere se vuoi mettere qualcosa fuori non devi pensare solamente a te stesso e devi anche pensare a quello che persone che magari non si intendono di musica o semplicemente vogliono ascoltare più anche non solamente gli strumenti non così in specifico cosa gli arriva a primo impatto quindi è stato bello immagino com'è bello adesso ovviamente poter ascoltare la tua canzone riuscire insomma a condividerla con tante altre persone è il primo singolo ti auguriamo di continuare ovviamente a riuscire a presentarti come Zovi Valdi proprio con le tue canzoni se ci sarà un EP o un album in futuro in progetto insomma qualsiasi cosa poi uscirà assolutamente no sono felicissimo che aver iniziato questa narrazione con Zovi Valdi e presto sicuramente ci saranno molte molte canzoni che la continueranno questa storia ecco Rumors è su Spotify e si può ascoltare dallo scorso il 19 maggio e un saluto a tutti i lettori di ZTL Magazine da Zovi Valdi un saluto a tutti i lettori di ZTL grazie mille grazie a tutti i lettori di ZTL